Ciao a tutti! Che tipo sei? Piedi e scarpe? In questo video voglio raccontarti come i piedi e le scarpe che indossiamo possono rivelarci delle cose sulla nostra personalità e ovviamente sulla personalità delle persone con le quali interagiamo anche se magari i piedi non è così semplice vederli, le scarpe sì. Prima di affrontare però questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Inoltre ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande in apposite live. Bene e veniamo dunque al tema. Veniamo dunque al tema piedi e scarpe. I piedi possono rappresentare diverse cose. Tra l'altro anche per quanto riguarda proprio, diciamo, esiste proprio anche una medicina orientale per i piedi che quanto riguarda i meridiani sia una medicina giapponese che cinese. cioè nei piedi, praticamente, i piedi sono fulcro dei meridiani. I meridiani cosa sono? Sono delle... una sorta di linee, di autostrade, diciamo, dove transita l'energia vitale che anima ognuno di noi che viene chiamata in diversi modi, chi in giapponese, chi in cinese, prana in India. Insomma, scorre nel nostro corpo e in luoghi ben definiti, in autostrade, diciamo così, una sorta di arterie dove passa questa energia negativa e questa energia vitale, energia positiva, e anche negativa a seconda, diciamo, di come sta la persona. E i piedi sono il punto di arrivo di ben sei meridiani che dopo aver percorso tutto il nostro corpo terminano all'estremità delle dita dei piedi. E tra l'altro ognuno di questi piedi, di questi meridiani, rappresenta poi un organo. E da qui nasce, diciamo, quella tecnica che è la riflessologia plantare che, diciamo, praticamente rappresenta una forma di medicina orientale, insomma, per cui massaggiare i piedi in certi punti va direttamente a lavorare, in alcuni casi sugli organi corrispondenti. Però i piedi, al di là di questo, diciamo, rappresentano anche, che rappresentano anche, diciamo, una forma di carattere. Ecco, i piedi rappresentano, ad esempio, la grandezza del piede. La grandezza del piede varia a seconda della persona, però ci può dare delle informazioni, ci può dare delle informazioni. In genere, diciamo, il piede e la grandezza del piede è proporzionato alla grandezza del corpo. Normalmente persone più grandi fisicamente hanno piedi più grandi. Però possono verificarsi casi in cui anomali, possiamo dire, piedi più grandi nel normale indicano che gli organi, diciamo, nella parte centrale del corpo, rappresentati dai meridiani relativi, sono più attivi, sono più attivi. In generale, diciamo che una persona con i piedi grandi è più portata poi all'attività mentale, mentre chi ha i piedi più piccoli è più portato, diciamo, all'attività fisica. Ovviamente, grande e piccolo, ripeto, in rapporto alla costituzione fisica. E un'altra cosa interessante è guardare l'altezza del dorso del piede. Più il dorso del piede tende ad essere alto, più, diciamo, la persona è più attiva fisicamente. Normalmente è una persona più votata all'attività fisica. Un arco del piede alto è importante, quindi, per persone che fanno proprio della loro vita, diciamo, della loro vita una professione, quella fisica, come ad esempio i ballerini, gli atleti, che ha il piede più basso e appiattito, presenta anche una pianta più larga, e sono persone che hanno la tendenza ad essere meno attive fisicamente, ma più portate, diciamo, all'attività intellettuale. E' interessante notare anche le scarpe. Le scarpe rivelano molto delle persone, perché, diciamo, rispetto ad altri capi di abbigliamento, le scarpe, c'era anche un fil di Nanni Moretti, molto interessante, che parlava proprio delle scarpe, o sulla scelta delle scarpe. Dicono molto perché, mentre magari di capi di abbigliamento se ne comprono diversi, di diverso genere, le scarpe, la scelta delle scarpe, è una scelta normalmente più, diciamo, più definita, più sentita, ci si pensa un po' di più. E spesso le scarpe, ad esempio, sono la parte un po' più tralasciata dell'abbigliamento, in alcuni casi. E' interessante notare, ad esempio, come vengono tenute le scarpe. Ci sono persone che, ad esempio, curano le scarpe in modo maniacale, persone che, con estrema cura, si occupano di pulire le scarpe e di prestare attenzione proprio ai minimi particolari, persone che invece le trascurano un pochettino. Le persone che tengono le scarpe curate sono persone che danno comunque molta importanza alla sostanza nella vita, alla pratica, alla pragmatica. Scarpe molto sporche o rovinate, diciamo, a meno che non siano segni di risaltezza economica, certo, se uno non ha proprio soldi per cambiare le scarpe, indicano che la persona è un po' confusa, è un po' disorientata. Dimostrano anche talvolta situazioni di attaccamento, perché ci sono persone che si affezionano proprio alle loro scarpe e quindi non riescono a distaccarsi, provano un vero e proprio attaccamento. Ecco, questa è un'altra cosa interessante, perché fa capire quanto una persona viva l'attaccamento. Inoltre le scarpe possono darci delle informazioni sulla condizione economica delle persone, perché, diciamo, mentre magari per un vestito, normalmente, mentre per un vestito magari una persona può comprarsi magari qualcosa un po' di più, perché magari è più visibile, è difficile che una persona compri delle scarpe, diciamo, spendendo di più rispetto a quelle che sono le condizioni economiche. Mentre tendenzialmente si può fare per un vestito che si pensa sia più visibile, diciamo, le scarpe, magari si scegliono delle scarpe sceniche, ma comunque meno costose. Quindi, questo ci dice persone che spendono molti soldi nelle scarpe probabilmente hanno anche, hanno anche, diciamo, come dire, condizioni economiche più agiate. Inoltre, si può anche vedere come le persone consumano le scarpe e questo è anche collegato un po' ai meridiani, no? quindi, ad esempio, persone che consumano molto la punta delle scarpe tendono a avere, essere persone che sviluppano un po' di rabbia. Quindi, questo è per quanto riguarda il consumo delle scarpe. e poi c'è la distribuzione del peso. Una persona equilibrata e ben bilanciata, diciamo, tenderà a distribuire il peso su tutto il corpo. Quindi, anche, anche le scarpe tenderanno a essere consumate in modo uniforme e ci sarà un buon equilibrio nella persona. Ecco, quindi, queste sono cose da osservare. Poi, la direzione dei piedi e delle scarpe ci indica anche la direzione in cui vogliamo andare. Quindi, è importante osservare molto la direzione dei piedi e la direzione delle scarpe perché una persona può tenere il busto da una parte ma se il piede è orientato dall'altra la direzione dei piedi ci dirà esattamente dove vogliamo andare. Quindi, questo è importante. Insomma, osservare la posizione dei piedi che ci dice da cosa è attratto una persona e dove vuole muoversi. Ecco, quindi, queste sono informazioni interessanti che noi possiamo ottenere da piedi e scarpe. Se questo video ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!